domani mattina c'è un prete, ma capito, ho perso i soldi che ho fatto a Marco Mossa filmiamo un prete, si, c'è stato assoluto ecco, lo vanno in tosh la donna mia collezionista nazionale, allora, questa è la media tua aspetta devo scappare, la media è una fretta maledetta, è una cosa penosa qui questa fretta questo è freddo ho preso, ho preso no, ho capito ho preso la donna no, due, sono uno e due ecco, la donna, basta, due dammi oreggio che spettacolo ecco, fammi fare le cose ecco 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 ecco